Allora, salve tutti ospiti, tutti italiani, i miei colleghi. Allora, vorrei presentarti un progetto molto interessante che è la storia della sua creazione e sviluppo abbia già 45 anni. Questo progetto può fornirci e entrare viaggi l'opportunità di fare la storia attraverso un progetto ambientale globale e allo stesso tempo creare capitale reale per la tua vita spensierata. E per tutti già è disponibile. Questo progetto è anche, sappiamo che lo sviluppo tecnologico non si ferma mai, e essere membro di un progetto ambientale dita la possibilità di andare avanti. Allora, sono Caterina, un curatore dello sviluppo regionale nel campo dell'implementazione della tecnologia ad alta velocità in Italia. Ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico. Ho anche 17 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. E sono una specialista certificato di lingua italiana a livello A2 e anche specialista certificato di mediatore europeo interculturale. Ecco, il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatole Iunezchi. e la sua proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 45 anni del suo sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato. E allora, Anatole Iunezchi è un scienziatore e inventore di oltre 200 articoli scientifici, 20 monografi e più di 150 invenzioni nel campo delle industrie, delle costruzioni, dei trasporti e della energia, meccanica, elettrica e chimica. e soprattutto per prodotti biologicamente puliti. Lui è un sviluppatore di numeri progetti, di infrastrutture di trasporto basati su sistemi di trasporto spaziale e geospaziale e nonché tecnologia di stringa. È responsabile di due progetti negli anni 1998 e 2002. È un membro della Federazione Cosmonautica. Lui è un progetto proteggista generale di USIT, Uneschi String Technology e fondatore del gruppo ISL. E allora, la filosofia del trasporto e creazione di questo trasporto dovrebbe risolvere a maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione. E i mezzi di USIT ci prospettano infatti su uno speciale cavalcavia a fune, rotaia fuori terra, ottimizzando e accelerando l'elodinamica, aumentando la velocità e garantendo una sicurezza senza precedenti un uso razionale del territorio e delle risorse, minimizzando imparato dei trasporti sull'ambiente. Tuttavia, il costo di costruzione e funzionamento è molto inferiore rispetto alle soluzioni di trasporto disponibili per oggi. E anche la costruzione della struttura Linea Sky Linea di Stringa richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto e delle strade. Allora, quanto devi costruire? Costruzione di Linea Sky consumi 20-25 a meno VNUVI perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, versare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo i soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su Sky Transport e fornire servizi di consegna con un trasporto più veloce. Esistono tre tipi di versacorde ridici, semiridici ed elastici e ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. come sappiamo quando un'auto accelera ad alta velocità deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica e il nostro Sky Transport è mila volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 km. E allora, implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio a muoverci molto più velocemente portiamo con noi ratei di evidenti e viaggiamo in Italia o in qualsiasi paese sognato. E allora, in pratica utilizzare questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria e anche sapendo che hai la possibilità e anche penso che essere il creatore del futuro sia l'evento più grande nella vita di una persona. Ti posso dire che ogni partner della società Skyward Community sta in una posizione retitizia ma qui è possibile firmare un successore e anche ricevere e entrare dal programma di partnership e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessanti. E allora, il vantaggio e il pacino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni. I rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile. E di qui parlano i progetti già pianificati realizzati firmati e dove è realizzato già questo progetto si vede quanto è pulita l'atmosfera. Ecco. E la società Skyward Community è stata registrata in Inglaterra sull'isole Vergini come società europea nel 2014. Pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea. Inoltre l'ordine di rappresentazione e partecipazione è invitato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. E dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono stati suddivise in 15 fasi. Ad oggi già siamo spostati alla 15esima fase. Ecco il documento di partecipazione e la proprietà che arriva dal registro inglese all'indirizzo indicato. ecco queste fasi di suo sviluppo già siamo allora per finire la 15esima fase dopo il completamento della 15esima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividendi. Ecco allora c'è anche un stabilimento di produzione un centro di innovazione in Sharjah e Minsk dove lavorano 3000 ingegneri struttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del trasporto di futuro con una massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia che nessuno non poteva immaginare prima che sarebbe possibile avere un trasporto così veloce così libero che non sarebbe dipende di nulla di altre cose che non avrebbe bisogno di nessun gasolio sarebbe così ecologicamente ebulito e non sarebbe dipende anche all'energia centrale allora Ecotecno Park è stato realizzato in Belarussia nella città di Marina Corca e negli Emirati Arabi Uniti in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli all'università americana negli Emirati Arabi Uniti c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può sperimentare in conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto stringa del futuro e ora è arrivato il tempo di dire da dove prendiamo i nostri benefici e allora il 32% della del valore della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietari di tecnologie innovative e i pacchetti azionari pure partono da 50 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire è possibile usufruire di rate interne a tasso zero su pacchetto azionario non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa allora quando finisci registrazione sei un parte e un membro della nostra azienda azienda ti offre sulla tua piattaforma queste offerte specializzate per i tuoi bimbi studenti per la tua famiglia per creare il loro futuro e anche con rate sotto zero già è possibile e allora è solo che dopo verificazione tu avrai fare investimento prima no allora personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1000 dollari cosa che non avrei potuto fare nella vita reale e tecnologie allora allora tecnologie sono sviluppati abbastanza e sicuro che avrai una domanda ma perché non usiamo un'auto ibrida sì ci sono molte macchine elettrici è esatto che questa domanda pure normale ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia e prima e quindi crea danni alla natura ecco e noi sappiamo allora che per i propri interessi e propri obiettivi l'umanità abbiamo danneggiato la natura e paesaggi stiamo abbattendo foreste prosciugando fiumi i bacini idrici distruggendo montane sciogliere quindi la natura risponde con disastri naturali ecco e noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino della nostra pianeta ricordate che i costi operativi sono 20-25 volte inferiori al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende e non dipende al centrale quindi anche il suo corpo può convertire luce del giorno e del sole in elettricità e può servirci senza sosta e anche riesce a accumulare l'energia durante un giorno per 5 giorni sappiamo che negli anni 70 purtroppo non esistevano problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 il signor Natoli Uneschi scienziato inventore proteggista di navi volanti presentò il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca l'atmosfera e che in 5 anni l'atmosfera era stata molto molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo questa situazione esiste quindi le strade come sappiamo sono congestionate da auto con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza che la causa di molti incidenti e tutto questo sta continuando durante decenni e la presenza di covid 19 ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico e la circolazione ha causato di decenni problemi strada sovrafolata mancanza di sicurezza di rispendio di energia colosale e alla fine natura molto molto inquinata questo è il motivo per cui che Sky Transport è il trasporto più necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana ecco e allora vi posso dire che con questa azienda non è che sta facendo una cosa molto importante anche ci offre andare avanti sempre stare in via di sviluppo insieme con le tecnologie innovative e di qui i nostri profitti ci sono e allora vi date i dividendi guadagniamo dal programma di partner possiamo avere o dare l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo proprietario di tecnologie partecipiamo in un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta pianeta blu e passiamo alla storia come fila al troppo e creiamo capitali per una vita spensierata e rappresentanti di 200 paesi attivamente coinvolti in questo processo abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere luoghi molto belli e interessanti per te per raggiungere Dubai o qualsiasi paese sognato e attestato abbiamo possibilità di attestare di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è importante per me e per voi tutti allora il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e questo ancora non è tutto ogni persona può avere un grande titolo tempo per tempo avere più guadagni e anche guadagnare ancora di più che era prima possibile e allora implementando e realizzando questo progetto in Italia crea condizioni più favorevoli in direzione del trasporto del turismo e ottimizzando prodotti di tecnologie ecologiche e un risparmio per noi e anche per la nostra bellissima pianeta potete immaginare in molti giardini così curati e fiorati quel trasporto ci offre allora ancora più servizi di quotidiani che possiamo e che può accelerare la nostra vita anche così abbastanza accelerata e migliorare i servizi in realtà la cosa più importante per te che ci sia un progetto reale che puoi visitare toccare sentire la sua velocità comodità per te stesso e noi non abbiamo bisogno paragonare a nessun'altra azienda quindi questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti per me personalmente per me e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner ecco l'azienda anche tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo i tutti i diritti del comproprietario e allora questo è un grande conforto per noi quindi il produttore e creatore il signor Renato Uneschi che presenta una relazione annuale sul lavoro svolto la nostra azienda ha una disposizione anche del denaro allora se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% e a determinate condizioni e restituire i tuoi soldi come mutuotario e tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda però finora questa richiesta allora e questo precedente non è stato finora rilevato e lo stesso Anato Uneschi ha già 74 anni ed è sicuro a 1000% che tutto questo si realizzerà dappertutto nel mondo nel corso della sua vita e lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo ecco anche abbiamo un sito uneschi.engineer dove è possibile vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor Anato Uneschi al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro potete immaginare come deve voler bene tutta l'umanità e questa pianeta questa persona forse ci ha mandato Dio allora per salvarci ok allo stesso tempo in questa fase del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente le specialità più richieste e altamente pagate in cui il mio team attivamente coinvolto puoi immaginare che prima del 2014 era un'altra storia però in questa situazione avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nell'azienda UST e che si è sviluppato in Francia Georgia Polonia Germania Spagna Italia Greco Israele e con l'aiuto del mio team in soli tre anni sono stati investiti oltre di 35.000 dollari e tutto questo è successo grazie alla comunicazione online e anche alcuni possibili non potete immaginare che prima del 2014 persone non stavano mettendo investimenti letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto personalmente la mia storia è ricco di successi e progressi con gli insegnamenti in azienda ho raggiunto lo status di master perché è un'azienda in via di sviluppo e il nostro sviluppo è necessario insieme alle tecnologie del futuro penso che siamo d'accordo in questo caso ecco comunque questo progetto già è realizzato in qualche paesi e ancora stiamo realizzando quindi abbiamo molti progetti già firmati e stiamo cominciando allora implementando il trasporto che esiste davvero e sia data a tutte le condizioni climatiche il suo corpo è resistente alle radiazioni e converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità ecco i termini di trasporto allora passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti in termini di inquinamento siamo a zero e sostante nocive non ci sono e quindi nessun danno per la natura non esiste in termini di incidenti è il può sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli e ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto marittimo trasporto terrestre e aereo e tutti tre dei quali causano danni per la natura e non possiamo evitare problemi che causano loro molti incidenti e inquinamento nella natura e purtroppo tutto tutto questo vediamo con i risultati delle malattie che soffrano molti bambini e molte persone e che se non faremo qualcosa oggi non avremo domani nessun bel risultato sappiamo pure questo UST fa parte di un gruppo di aziende proprietarie delle proprie aziende che nell'implementazione delle tecnologie innovative di UST includono una gamma completa e attività tra cui l'azienda di iniezione completamente avanzata e la propria impressa con una vista esperienza nella produzione dei veicoli e allora Sky Bay è un trasporto unico che salverà la vita a milioni di persone centinaia di migliaia di ettari di paesaggio miliardi di animali e uccelli e permetterà loro a ciascuno e questo è la nostra realtà che è già disponibile per tutti e allora non vi posso non dire ancora i nostri profiti quando decidiamo essere un membro di questa azienda essere un investitore devi sapere che ogni partner di questa azienda sta in una posizione ereditizia quindi il nostro profitto sono i ratei i dividendi guadagniamo dal programma di partner possiamo avere o dare l'ereditarietà abbiamo disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo proprietari di tecnologie e partecipiamo a un progetto ambientale ampio globale per salvare il nostro destino della nostra pianeta blu e passiamo alla storia come fin altropi e creiamo capitali per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare e attestiamo di formazioni in specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è importante più importante per te e per me il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e vi posso dire che ogni anno quantità di mie azioni crescono quindi io preferisco avere più azioni in un progetto del futuro per avere allora insicuro avere una vita spensierata e implementando dappertutto anche nel mio paese anche il mio secondo paese in Italia questo progetto posso trovare anche tutta la bellezza questi paesi viaggiare dappertutto anche per guardare questa bellissima pianeta cioè che è importante per te ti dico che alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale e unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio già abbiamo progetti realizzati questo progetto è cominciato quando è nato l'idea costruire città lineari e per cui che il signor Antonio Uneschi stava creando stava pensando creare un trasporto che servirebbe per queste città allora per tutti i servizi e allora è diventato e allora questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative di Antonio Uneschi e è arrivato un trasporto più ecologico economico meno costoso e semplicemente integrabile in cui allora soprattutto che è ecologico il progetto in realtà è realizzato così come vorrebbe allora ognuno da noi e allora ancora vi presento un documento un order allora di proprietà che arriva dal inglese dal registro inglese all'indirizzo indicato e ogni partner può avere questo documento e lo può realizzare quando ci spostiamo sul mercato mondiale l'azienda ci offre allora o vendere i nostri azioni o avere i dividendi e continuare andare avanti con questa azienda e allora le misure adottate del sistema di trasporto IST per prevenire gli incidenti sono descritti in dettaglio nel manuale operativo nonché nella documentazione tecnica e progettazione e i costi operativi sono al zero al minimo quindi non consuma energia centrale e non dipende e anche non usa nessun gasolio e per cui l'inquinamento ambientale è al minimo ancora quindi non buta nessuni rifiuti e non causa danni per la natura il livello di incidenti stradali sono al minimo quindi evita tutti i veicoli già esistenti ecco è una bellezza penso per il futuro nostro ecco già ho finito era la società Unitsky String Technology con le sue offerte e opportunità penso di spiegarvi meglio che cosa ci offre questo progetto io sono stato attratto dalla qualifica di investore leader speaker curatore regionale in Italia mediatore europeo interculturale di questa società grazie per attenzione sono Caterina arrivederci a Grazie a tutti.